Oggi esploreremo insieme le 13 pratiche da evitare assolutamente quando si tratta di condividere la vita con i nostri gatti. Sei pronto a scoprire i segreti di un rapporto armonioso con i nostri piccoli amici pelosi? È giunto il momento di esplorare ciò che rende speciale il legame con i nostri felini. Iniziamo. 1. Non forzare la sua attenzione. I veterinari sottolineano l'importanza di non costringere mai un gatto a interagire o giocare quando non ne ha voglia. Anche se amano l'attenzione umana, i gatti preferiscono farlo seguendo i loro ritmi. Rispettiamo sempre le loro esigenze e non li costringiamo a interagire contro la loro volontà. 2. Non giocare con le mani. Durante il gioco evitiamo di utilizzare le nostre mani come esche. I gatti sono naturalmente predisposti a cacciare e inseguire prede e farlo con le mani può portare a comportamenti indesiderati o addirittura pericolosi, sia per loro che per noi. 3. Non giocare con i fili. I fili possono rappresentare un pericolo per i nostri gatti, poiché il loro ingerimento accidentale può causargli seri problemi di salute. Nel tentativo di digerire il filo, gli intestini del nostro amico peloso potrebbero comprimersi e annodarsi, causando la morte di alcune parti dell'intestino che devono essere chirurgicamente rimosse. Assicuriamoci di fornire giocattoli sicuri e adatti alle sue esigenze di gioco. 4. Non alimentarlo esclusivamente con cibo secco. I gatti sono abituati a vivere in ambienti aridi e possono ottenere tutta l'acqua di cui hanno bisogno dal loro cibo, a patto che seguano una dieta adeguata. Dal momento che i gatti non sentono un forte impulso a bere acqua quando hanno sete, è fondamentale mantenerli idratati attraverso il loro cibo. Anche i gatti che bevono molta acqua spesso non ne consumano a sufficienza. La disidratazione cronica spesso porta a problemi come calcoli vescicali e infezioni del tratto urinario. Molti problemi di salute possono essere prevenuti semplicemente aggiungendo cibo umido alla dieta del tuo gatto. quotidianamente. 5. Non punirlo direttamente. La punizione diretta può causare stress e paura nei nostri amici felini. Cerchiamo invece di utilizzare metodi positivi di addestramento e comportamento. Non importa se stai pensando di dargli un colpetto sul sedere o semplicemente di usare un suono forte. I gatti sono molto sensibili ai rumori forti e alle voci alte che possono far loro provare paura. Questi suoni possono fargli percepire la persona che li emette come una minaccia, il che potrebbe portarlo ad evitarla. Se il tuo gatto mostra un comportamento che consideri inaccettabile, considera che quello potrebbe essere un comportamento per lui naturale che ha solo bisogno di una soluzione appropriata. 6. Non alimentarlo eccessivamente. Alimentare il tuo gatto senza moderazione, cioè permettergli di mangiare quando vuole, può causare obesità. Assicurati di fornirgli solo la quantità necessaria di cibo solido e umido raccomandata dal tuo veterinario per evitare problemi di peso. 7. Non tosarlo, a meno che il tuo veterinario non abbia indicato una ragione medica per farlo. Anche se i gatti con tagli di capelli stile leone possono sembrare adorabili, non si dovrebbe tosare un gatto in generale. Ricorda che il suo pelo svolge un ruolo cruciale nella regolazione della sua temperatura corporea, permettendogli di rimanere caldo in inverno e fresco in estate. 8. Non ignorare i suoi segnali di stress. I gatti sono creature sensibili e possono manifestare lo stress in diverse maniere. Alcuni segni comuni includono cambiamenti nella postura corporea, come acciambellarsi o tenere la coda vicino al corpo. Presta attenzione ai loro cambiamenti nei modelli di sonno o alimentazione, che potrebbero indicare stress. 9. Non trascurare l'igiene della sua lettiera. È cruciale mantenere pulita la lettiera del tuo gatto per farlo sentire a suo agio. Rimuovi i rifiuti solidi dalla lettiera almeno una volta al giorno. Inoltre, scegli la lettiera giusta per il tuo gatto. Il trascurare la pulizia della lettiera può avere conseguenze. I gatti sono creature pulite e potrebbero rifiutarsi di usare una lettiera sporca. 10. Non esporlo a sostanze tossiche. I gatti sono curiosi per natura, ma nelle nostre case sono presenti sostanze comuni che possono essere pericolose per loro. Dovremmo evitare prodotti per la pulizia, insetticidi e piante come il giglio, che sono potenzialmente dannosi per i gatti. Inoltre, alcuni alimenti come cioccolato, cipolle, uva e avocado possono essere tossici per loro. 11. Non evitare la sua stimolazione mentale. La stimolazione mentale è essenziale per il benessere del tuo gatto. La mancanza di questa stimolazione può causare noia e stress, portando a comportamenti indesiderati. 12. Non somministrargli farmaci progettati per esseri umani o cani. Alcuni farmaci potrebbero essere sicuri per noi o anche per un cane, ma potrebbero essere fatali per il tuo gatto. L'opinione di un veterinario è fondamentale prima di somministrare qualsiasi medicinale al tuo gatto. 13. Non trascurare i cambiamenti nel suo comportamento. Spesso i proprietari devono interpretare segnali sullo stato di salute del loro gatto basandosi su cambiamenti fisici e comportamentali. Alcune malattie meno conosciute nei gatti sono estremamente dolorose per loro, come le malattie dentali e l'artrite. Se noti un cambiamento repentino nel comportamento del tuo gatto, programma una visita dal veterinario per determinare se c'è una ragione medica dietro il cambiamento nel comportamento del tuo animale domestico. Ricordiamoci sempre di rispettare i nostri gatti e di trattarli con amore e cura. Sono parte della nostra famiglia e meritano il meglio da noi. E tu? Hai qualche amico peloso di cui prenderti cura con questi consigli? Faccelo sapere nei commenti. Se questo video ti è stato utile, lascia il tuo prezioso mi piace e iscriviti a Dose Mentale per altri contenuti simili. Ci vediamo nel prossimo video!